Viene meno il rapporto di fiducia tra il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, e l'assessore al bilancio Antonio Lo Giudice. Il primo cittadino ha infatti licenziato l'assessore, visto che da tempo Lo Giudice ha manifestato difficoltà nel proseguire il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi programmati dal sindaco canicattienese. La decisione è stata assunta dopo che lo stesso assessore ha rimesso il proprio mandato nelle mani del gruppo che lo sostiene. L'orientamento del PDL Sicilia a tal proposito è stato quello di far dimettere al più presto dalla giunta Corbo l'assessore Antonio Lo Giudice, perché ad oggi sono venuti meno i presupposti di un'ulteriore collaborazione con l'amministrazione comunale in carica. Ancora problemi dunque per il primo cittadino di Canicattì, che a distanza di poco dall'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche e del bilancio di previsione 2010, si ritrova d'innanzi nuove questioni. Grazie. 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 Grazie.